Benvenuti in questo nostro nuovo primo video! Io sono Luca, io sono Tarna, oggi siamo su questo video per parlare del nostro canale, nuovo canale. Lo descriveremo e parleremo perché l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto per fare challenge, cioè streamiamo sui giochi naturalmente, raramente su Brawl Stars e poi faremo le challenge su FIFA, Fortnite e quello e abbiamo creato anche questo canale non per fare videogiochi soprattutto, ma per fare challenge, reaction, prova non, e anche delle penitenze in caso di sconfitte. Tipo faremo delle challenge come facciamo questa sfida, non ve ne parlo per non spoilerare, una sfida che perde, fa una precisa penitenza, tipo prendiamo una ciotola, mettiamo dentro i bigliettini, prendiamo presco noi. Tipo una challenge che vi dimostrerò, solo una, soprattutto sul calcio, dei rigori 5, chi le segna di più vince e chi perde che ne segna meno penitenza che è un secchio acqua in faccia, molto fredda. Poi non so di cosa dirvi, noi ci chiamo nel Chiozza, abbiamo tutto il 2008, io dovrò fare la scuola a prima media alla Sparanzani, lui a caso del grande. Io ho una sorella e lui ha un fratello e niente, siamo migliori amici, ci conosciamo da quando abbiamo 3-4 anni. Aspetta. E basta. E poi dopo cosa possiamo parlare? Spero che questo canale abbia molto successo. No, molto successo, 3-4 miliardi, milioni di iscritti, ma che ci divertiamo noi. E per farvi anche divertire voi. Sì, questo canale con calma facciamo a cose cento iscritti, mille iscritti e scagliamo piano piano. Non sappiamo cosa dirvi, direi che va bene così. Per questo video è tutto e bye bye. Spero che questo video vi sia piaciuto, ricordatevi di condividere il video, mettere un like, iscriversi al canale, anche se il nostro primo video non è uguale. Spero che questo video vi sia piaciuto, bello, 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 bello.